Continua il calo, lento ma costante, sia nei contagi che nei ricoveri e se l'indice RT è in leggerissimo aumento, cala ancora invece l'incidenza. I dati del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento della pandemia rappresentano un paese completamente diverso da quello di un anno fa che passava da un lockdown all'altro. 12 mesi dopo, grazie a una campagna vaccinale che ha immunizzato l'80% degli italiani, la riapertura delle scuole e di tutte le attività lavorative, commerciali, sportive, culturali e del tempo libero non ha causato alcun aumento nei contagi, anzi i dati dicono che la pandemia continua a rallentare. I primi passi nell'autunno e nella stagione più fredda vedono quindi un paese tutto in bianco, restano solo tre da quattro della settimana precedente, le regioni a rischio moderato e l'indice RT in salita di 0,2 punti percentuali da 0,83 a 0,85, spinto soprattutto dai contagi in ambito ospedaliero. Ospedali che vedono in diminuzione sia i ricoveri che i posti letto occupati nei reparti covid in intensiva, l'incidenza e il numero di casi su 100.000 scende invece a 29 da 35, molto al di sotto del valore di 50 ogni 100.000 che impedisce il tracciamento dei contagi. La pandemia quindi è sotto controllo ma resta altissima l'attenzione delle autorità sanitarie così come deve restare alta quella dei cittadini. Gli 8 milioni di italiani che hanno rifiutato il vaccino non permettono ancora di cantare vittoria.